Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di TV6. A corso di questo mercoledì l'anticiclone nord-africano tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo, quindi è destinato a riavvolgere buona parte dell'Italia. Solo all'estremo sud, sul Salento, possibilità di qualche pioggia residua al mattino, ma anche qui tornerà rapidamente il sole e ne approfitterà anche il caldo, che tornerà ad intensificarsi al nord e sul medio-alto terreno. In Abruzzo si prospetta un mercoledì complessivamente stabile e soleggiato, con qualche no-quadenzamento in montagna durante il pomeriggio. Non ci aspettiamo fenomeni annessi, le temperature in lievissimo aumento, massime attorno ai 28-31 gradi, minime tra i 16 e i 23 gradi. I venti saranno prevalentemente deboli di brezza, mari calmi o a tratti poco mossi nel pomeriggio. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.